finché ho la batteria avevo da cambiarla ma va bene la sotella hopla ecco guarda la passa appena appena quella fronte a volte ti passi un ostacolo meglio adesso ho un po' del terreno e dopo comincia il scassato si che se è un toro o liganca si che se è un toro o liganco guardate che sei lì che vabbiamo in questo modo un toro ma 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 oh 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 ma fortuna no zangangamoia se fosse palta nimo attenti attenzione ciao ciao siamo in tre come sei la Gianluca? come sei la? bene bene mi piace sta un po' tecnico adesso arriva quello ancora più tecnico però in piano devo attraversare che non ti salta in faccia? ma che è un po' tecnico 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 ma è uno periccino ma ti abbia energia se ti abbia energia dice come va adesso le abituavano che è un passaggio anche quel giorno che siamo passati con andrea una colonna di gente continua il nostro attenti ai qualità perché i mulini acqua è funzionante 1 giorno va bene grazie ma andiamo qui grazie salve grazie salve ecco qua è il posto tecnico dai no mi ha sentito no Dio, come hai vinto? Come hai cominciato a tirare i tre campi? Lui! Stavano? Ti stavano giù No, ma niente... No, ok La collezionalità giusta Ti ha disperazione? Eh, anche d'altra volta tu hai una maia di gente così Si Michele Qua la svansella? Opla Ho toccato Eh, a sfido chi la fa? No, no, beh I matti la fa I mari sono i sassi eh? Si, sono i sassi e poi la passa sul il salto qua No, i pro Allora se finisci di arrivare ai livelli alti Eh, i pro Eh, adesso che sei un altro tratto volendo Aspetta dai Dai, a prima limite li accompagniamo Perché Ci sarà gente che vince E quella che va ai mulini proprio Salve Grazie, ciao Questa Si Guardate qua? Si Guardate i scalini eccetera Bisogna fermarsi qualche volta Oh Rego si adesso si può fare la tuta in sella penso questo qua è il molino